Manca la segnaletica sia verticale che orizzontale ed anzi è rimasto un cartello della vecchia strada in cui viene indicata la fine del tratto con il limite di 30 km orari, incentivando così l'aumento di velocità in concomitanza dell'inizio della ciclo pedonale. La pista di via Visconti a Sant'Orso di Fano viene ritenuta molto pericolosa dal Movimento 5 Stelle che ha presentato un'interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta come mai non sia stata ancora messa in sicurezza. Infatti con la realizzazione delle opere compensative questo tratto che prima era accessibile a tutti i veicoli ora è dedicato soltanto a pedoni e ciclisti. Peccato che di fatto rimane possibile il transito a chi con scarso senso civico, con scooter, a pecar ma anche con auto e furgoni continua a percorrerla per raggiungere più velocemente l'autostrada. Qui vediamo la parte brutta delle opere compensative di Fano che non sono state ben utilizzate dal Comune. La Società Autostrade ha fatto una strada nuova per portare le auto in autostrada, cosa molto utile e ben riuscita. Però questa strada via Visconti di fatto è stata chiusa al traffico ed era l'unica stradina che portava la popolazione di Sant'Orso alla chiesa di Tre Ponti che fa parte della parrocchia di Sant'Orso. È stata trasformata questa parte finale in una pista ciclabile, però pista ciclabile che non è segnalata all'inizio. Infatti qui purtroppo ci possono passare ancora i ragazzini con Matorino, ci passano gli adulti in scooter per andare prima in via Papiri o anche le auto, addirittura i furgoni per raggiungere prima l'autostrada. Risulta pericolosa perché appunto non è ben segnalata e non si è capito ancora se hanno finito oppure no i lavori in questo pezzo. Qui già molto prima del lockdown non c'era più nessun operaio, la strada non è asfaltata, non ci sono cordoli, ci vengono a passeggi i bambini con i cani, non ci sono cestini, ma soprattutto è pericolosa perché non si vede se arriva qualcuno, a parte la vegetazione, che non è appunto ben delimitata, basterebbe solamente dei piccoli accorgimenti, dei paletti o delle segnalazioni un po' più forti per far capire che questa qui è diventata una pista ciclabile ed è importante perché l'amministrazione si vanta delle piste nuove che sono state fatte cosa bene, positiva, però anche quelle in periferia sono importanti, se no si fa lo stesso discorso della strada per Pesaro che l'amministrazione considera solamente dalla Flaminia verso nord senza considerare Ponte Sasso, Metauriglie e Torrette. Anche la ciclabile in periferia è importante perché questo è l'unico collegamento per poter andare da Sant'Orso alla chiesa di Tre Ponti. Grazie! 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 Grazie!